ciao da metà di questo mese sarò in tour nelle mie regioni per presentare le nuove casse della vestlid in abbinata al moon 250 e il dac argon audio in solo questo sarà un motivo per ascoltare qualcosa di nuovo di differente e per porre le basi per affrontare l'autunno nel miglior modo possibile quindi contattami così ci organizziamo di conseguenza ciao